Il mio sogno sarebbe quello di poter lavorare in un'azienda di risorse umane e sono abbastanza un po' preoccupata per il lavoro dei giovani in quanto purtroppo in Italia non abbiamo molte garanzie e credo che il garante dovrebbe aiutare noi giovani per poter risolvere un po' questi problemi di occupazione che purtroppo esistono in Italia e non solo ma anche in Europa purtroppo a causa della crisi che ha colpito un po' tutta Europa.